Quella che è la storia ufficiale italiana, ovviamente si rifà al 24 maggio del 1915, il momento in cui, rotto ogni indugio, il governo italiano decide di schierarsi con le potenze dell'intesa, quindi prioritariamente Francia, Gran Bretagna e Russia, per ottenere dei vantaggi, possiamo facilmente dire il completamento del risorgimento. Quindi anche a livello didattico abbastanza normale che si ritenga la guerra, la guerra 15-18 in Italia. Nulla di errato se non fosse che per queste terre di estremo nord-est, naturalmente possiamo rifarci tranquillamente a Trieste e a Gorizia, ma non solo, anche se si andasse poi nell'area dell'attuale Trentino Alto Adige, la guerra ha già coinvolto quella che era l'antica contea di Gorizia e Gradisca a partire dal 1914, cioè dalla fase iniziale del conflitto. Perché? Semplicemente perché era Austria, quindi quando l'Austria, agli inizi di agosto del 1914, si trova proiettata nella guerra, proiettata, va spiegata, è una guerra che ha sostanzialmente scelto, comunque si ritrova in guerra, le popolazioni locali già cominciano a risentire e naturalmente non è mai un bel risentire della situazione di ostilità palesi. Non si combatte qui naturalmente perché il fronte non esiste qua, però attenzione i ragazzi goriziani vengono ampiamente arruolati come era regolarmente per il servizio militare in precedenza e vanno effettivamente a combattere sull'altro fronte dell'Austria che è essenzialmente la Galizia verso la Russia. E quindi abbiamo sicuramente alcune generazioni di giovani goriziani che forse ovviamente la storiografia italiana non ha messo in primario risalto e solo da pochi anni, forse può darsi già da uno o due decenni ma qui si comincia a parlarne, i quali hanno sofferto della guerra già nel 1914 e attenzione anche l'economia e la vita sociale del nord-est austriaco, del sud-ovest austriaco, nord-est attuale italiano, cominciavano a risentire di una evidente economia di guerra, di situazione di guerra. Questo evidentemente con crescente preoccupazione per le popolazioni locali anche perché le popolazioni locali si trovavano in una condizione di enorme incertezza a fronte di una forse prevalente voglia di stabilità e quindi anche di permanenza tutto sommato dell'appartenenza all'impero osburgico. Tuttavia c'erano anche importanti fette della popolazione che per loro sentimento nazionale auspicavano qualcosa di diverso per il futuro. Si cominciava a vivere nell'incertezza. Una premessa mi è d'obbligo. Io sono uno storico della politica estera. Come tale evidentemente tendo più a vedere quelli che sono stati grandi o piccoli accordi internazionali. Tuttavia ovvio non sono insensibile al discorso sull'irredentismo locale. Bisogna dire che sia per Trieste che per Gorizia possiamo parlare di realtà profondamente multietniche ma nel senso più civile del termine ovvero in cui quella che era sicuramente una grande realtà imperiale multinazionale, multietnica, multiculturale che era l'impero osburgico era riuscita a far bene direi qui il suo lavoro nel senso che c'era una forte compartecipazione. Io non mi sento a mia conoscenza di parlare di vere tensioni di tipo etnico nazionale. È evidente che esistevano varie classificazioni, vari strati della popolazione che io potrei provare a riassumere anche se mi scuso se ci sono delle semplificazioni dicendo che mentre la borghesia delle città, naturalmente stiamo parlando in primis di Trieste e di Gorizia, poteva avere anche delle forti componenti di italianità quindi auspicare anche a dei subvertimenti nel senso che poi sono andate le cose, le campagne, il mondo rurale era forse prevalentemente favorevole al mantenimento dello status quo cioè del dominio osburgico. Quindi possiamo grosso modo dire città più sensibile all'Italia, campagna più favorevole tutto sommato al mantenimento degli asburgo. Però devo dire tutto questo non era mai stato vissuto in una maniera pesantemente conflittuale. Mi sia dato, esprimo una mia opinione ovviamente contestabile, le popolazioni locali hanno sostanzialmente con un buon livello di ordine accettato i fatti, cioè un gioco più grande di loro, perché era un gioco più grande di loro, ha fatto sì di passare alcune di queste aree appunto dal dominio osburgico allo stato italiano, ma con quell'ordine in fondo e quella forma di accettazione, forse in alcuni casi nemmeno lontana dalla rassegnazione, alle quali in fondo erano state anche educate per secoli. Ricordiamolo che lo stato osburgico nel complesso pur decadente, ma era uno stato che aveva funzionato, aveva funzionato anche bene, aveva creato il senso del cittadino ordinato, non vittima, perché non è questo il concetto del cittadino osburgico, però il cittadino ordinato che fa con cura le cose che deve fare. Grazie.